di responsabilità, perché come le notizie vengono narrate ha un impatto enorme su come poi si prendono le decisioni da un punto di vista istituzionale e giuridico rispetto alle questioni, in particolare rispetto alla violenza di genere. Lei sta nella comunicazione, per me, molto spesso negli articoli si dice dove era stata quella donna, come era vestita quella donna, chi aveva frequentato quella donna, cioè alla fine le categorie sono vittima oppure te la sei cercata, ed è così che non in particolare nel vostro giornale, però lei sa perfettamente che nella comunicazione questo avviene e questo è un problema enorme rispetto alla via di fuga, rispetto a come poi vengono prese le decisioni e questa cosa deve finire, perché siamo a 114 donne uccise, ma una ogni tre giorni, anzi un po' più, voglio dire siamo all'emergenza nazionale e non si può più affrontare questa cosa con i codici normali, vanno narrate diversamente, è fondamentale.